musica 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 e qui sul mio canale qui con DJGAMER siamo qua nuovo video e oggi facciamo esportalta io non porto più esportalta ma io lo porto sotto voi che non mi cagate più al contrario e oggi sponsorizziamo 1 2 3 4 5 6 il settimo no perchè il settimo ho appena saputo che niki ha chiuso il canale perchè cioè youtube ha chiuso il canale perchè ha fatto un cazzate bravo ready ready the official ehm lui fa un po' di tutto io da poco lo seguo e non ho capito ancora che genere è qua io qua vedo tanti vlog e tanti video che vabbè aglio mamma non giocano io non ho apporto perchè fa cacare per quello che non ho apporto perchè non è che eeeh tanto è inutile se non gli youtuber famosi è inutile vabbè ha giocato bull giurato qua o mentre noi non facciamo vedere niente perchè non ti fai vedevolo veramente vi diciamo eeeh vi faccio vedere eeeh io spero che cresca anche lui dai e dopo sapere che veramente devo farlo benissimo perchè ma io ho fatto tantissimo ho fatto una cosa bellissima ma ha fatto la intro quella che pubblico sempre capite ogni volta in iniziale ecco quella ma ha fatto lui veramente se non è che mi sono disiscritto se mi discrivo subito di nuovo non c'è perchè si disiscriva subito eeeh eeeh realmente l'intra una mia se c'è se c'è se c'è la mia credo ne ricordo più se la mia c'è o no cioè l'ha fatto lui ma non è che più doveva e' quella qua vedi eeeh quindi eeeh quindi e poi io io la volevo così e me l'ha fatta bella così però vabbè sento bella eeeh eeeh lui vediamo quanti iscritti ha ah si ho visto il primo 31 sono anch'io quindi 71 qua coraggiamo 23.038 vitro sezioni in quasi un anno quindi veramente bravo in un anno bravo ci sono ciao sono art hd ho 15 anni quindi per te giovanissimo e mi piace le grafiche e i gaming soprattutto fps bravo c'è steam lo vedo per il giugno facebook facebook eeeh e gli altri ovviamente mmmm i video la tevista youtube 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 angola ma che merito gli descrizioni non capisco perchè youtube di merda a volte eeeh passiamo a bootux eeeh anche lui mi ha chiesto di essere potenzato eeeh io di lui lo seguo proprio perchè diciamo eeeh io non è che possa vedere tutti youtube io ho visto tutti i video veramente mi ha fatto ridere più quello è basta che la bug rida ovviamente più bello che l'altro il primo c'è l'ultima corte è eeeh andate a vedere perchè è un grande ragazzo veramente seguitelo bene eeeh so che questa sponso di sezione a ogni estate nessuno me la cagherà come tutti più come mai tutta l'estate almeno io quando per questo video io avrò cioè io sono in vacanza che se vedete bene il 13 lo sto facendo ogni mattino sto per da dei minuti per fare questo video e pubblicarlo per voi il 15 perchè tanti me lo chiedete vi ripeto ancora a chi vuoi essere sponsoizzato scriva hashtag sponsoizzami e lo farò non è che non mi cago non so come te i youtuber che non mi cagolo il 15 sono un 2017 esercizio bene sono un lester player il mio scopo è di divertire se vi piacciono gli horror i gameplay sui giochi più bastardi siete eeeh ciò sono perchè veramente ragazzi non mi sento tanto bene questo c'è anche un video di me tanto bene ce lo dico e poi ragazzi seguitelo ehm un bravo ragazzo quindi ho visto che è simpatico fa anche ridere a volte quindi veramente seguitelo veramente bene eeeh boh passiamo un trucchiano eeeh questo qua ragazzi ve lo dico da amico seguitelo perchè sebabomb per me più di un youtube è un amico perchè l'ho incontrato nell'incontro a Gino Manervi già a Gino Piazza Principe perchè poi siamo venuti più lontani però vabbè seguitelo perchè veramente è un grande momento di video fa soltanto adesso sto pubblicando un po' di video alla cazza dei cane di mortal kombat la cazza 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 in vacanza forse si ma chi lo sa seguitelo a pochi iscritti perchè il mal di lucia grazie a me il video game qualcuno mi potò salire a 40 iscritti a 1806 visualizzazioni si è scritto da 11 novembre 2010 questo è il pianale e dove vi porterò a vari gameplay di vari video mi raccomando ragazzi iscritti astro io gli dico di mettersi facebook che la cazza faccia facebook cosi meno riesce a salire a crescere crescere per lui che è una cosa importante se no c'è infatti facebook fai una descrizione più grossa non so inventa qualcosa almeno fate 5 righe non una riga e mezza e poi fatti cercare gente che ti vuole bene che ti segui quindi ti aiuta a me farò il massimo che tu cresci il mio motivo è fatti arrivati a 100 iscritti e poi da lì ti rifà solo quindi buona fortuna perchè siamo i boss sei un amico di mio amico mio amico anche il mio card segnico mio passiamo al prossimo canale quindi è stato un'corsi una bombo che ho mai imparato ovviamente non è nulla passiamo a giuseppe che non è giuseppe ma cioè lei è femmina ma ti chiamo giuseppe questo what up Vabbè, lui fa... Lei, lui, non mi ricordo più, cioè è lei perché mi ricordo che è una femmina era, vabbè, questa persona pubblica video, foto dei cartoni, come si chiama, i cartoni, oddio, i mani, i mani, i mani, i cartoni mani, come in cazzo si chiama, vabbè, avete capito, quindi, boh, ha fatto pochi video perché, boh, non so cosa sta facendo, ma spero che faccia più video perché adesso ha 60 iscritti e 200 iscritti posizioni, si è scritto a dicembre 2018, quindi non è neanche un anno, quindi spero anche che lei cresca, o cresce, come cazzo, eh, mi fai confondi, mi fai confondere, ok, vabbè, Per esempio, sono l'ultimo di questa giornata, visto che non tanti me l'hanno chiesa stranamente, perché io sempre ero pieno, mamma mia, mi ricordo qua, quando ho aperto le spedizioni, ero pieno, 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 dicevo, oddio, ce la farò, ce la farò, adesso che, buh, scompassa, restate, brava, restate. L'ultimo che vediamo oggi è web, web libero, nome veramente originale, ha fatto anche questo web, bravissimo, E lui, diciamo che lui porta dei, uniboxi, e fa dei gameplay, fa anche qualcos'altro, web senza, volto, vabbè, fa qualcosa, e ovviamente io non l'ho ancora seguito, quindi se ti metto, per lo giuro, da adesso, dopo la prossima spesa, mi metto a vedere più video, scusa se non ti ho visto neanche un video, ma prometto che del prossimo, del prossimo non c'è video. Dopo questo video ti seguirò tantissime perché voglio capire cosa fa, perché vedo che tu fai i giochi e uniboxi e cos'altro, vabbè, te lo prometto, te lo prometto, vabbè, te lo fai com'è, lui ha, da state state iscriviti, quindi, povolo, lui, c'ha, qua che sapan, quanti visu ha,kerkinbioso ha, quarta puttana, c'ho fatto il 12, 12, 14, 14, Zoom, 14, 16 10 10 10 15 10 10 12 10 810 video selezioni in un po' staschetti wow vai buono buono c'è pagina facebook c'è sito web facebook tisu chi va su tisu io basta eh discrizione lunghissima e seguite web libero ovviamente grazie a tutti grazie a tutti al prossimo sponsor time quindi ragazzi potete essere sponsorizzati dovete cliccare e scrivere e sareste sponsorizzati il 15 settembre perchè sono vuoto quindi ci vediamo finisce settembre al prossimo video bella non non ciao